Meno 25 giorni a Spa Esamento, in vacanza da se stessi, che è il seminario trasformativo di Guest al Coach Academy che quest'anno si tiene ad equiterme il 3-4-5 luglio. Questo è un video messaggio per tutti coloro che si sono iscritti e siamo ormai un bel gruppo e anche a chi si vorrà iscrivere eventualmente successivamente. Perché un messaggio 25 giorni prima? Uno dei segreti del cambiamento risiede proprio nel porre l'attenzione di fronte a un avvenimento importante, a quello che avviene prima e a quello che avviene dopo. Anzi, è proprio l'attenzione a questi due momenti che rende importante e significativo un evento. Quello che avviene dopo perché dà senso, permette di integrare l'esperienza e quindi di creare anche delle conseguenze. E' quello che avviene prima perché lo sguardo e la preparazione precedente permette a quell'evento di avere un certo tipo di potenzialità o limiti. I limiti e le potenzialità di quello che facciamo sono determinati dallo sguardo della preparazione precedente. Ecco che l'invito che facciamo quindi a tutti, facciamo io, il mio staff e tutti i collaboratori che ci saranno a spavisamento, è quello di prepararsi a questo evento ma di farlo non in maniera razionale ponendo degli obiettivi. Anzi, al contrario, l'idea è proprio quella di togliere, non dimettere, perché anche gli obiettivi che abbiamo in testa sono figli di nostri schemi mentali. Chi potremmo essere, anzi, cosa potremmo desiderare se non fossimo rinchiusi dentro la nostra ipnosi quotidiana di chi siamo e di cosa vogliamo. Quindi l'invito in questo momento è quello di alleggerire togliendo, quindi prepararsi togliendo, prepararsi rilassandosi, un po' lo sguardo del bambino. E allora incominciamo, lo sguardo del bambino che è quello che si meraviglia perché non ha punti di riferimento, va alla scoperta. E allora l'invito è proprio quello di prepararsi in questi 25 giorni a guardare con l'occhi del bambino l'esperienza intorno, a iniziare uno spaesamento nella nostra quotidianità. Là invece, nello spaesamento del 3, 4, 5, lavoreremo, ogni anno si lavora su un tema diverso, l'anno scorso era l'eroe interiore e quest'anno sono i 5 elementi. Sono i 4 elementi, cioè terra, fuoco, aria, acqua, più il quinto, che secondo alcune tradizioni sciamani, che è proprio il cambiamento. Lavoreremo in uno scenario molto evocativo, con anche appunto degli elementi che sono la terra, ma anche l'acqua, l'acqua termale, che aiuteranno questo processo alchemico e quindi con questo messaggio di preparazione anche noi ci prepariamo. A breve manderemo una mail con le informazioni più tecniche. Per adesso, buon spaesamento quotidiano!